Assessore, parliamo di cultura, anche considerando la candidatura di Teramo a Capitale della Cultura 2020, quali sono gli eventi programmati? Siamo dovuti partire subito da quelle che sono le criticità dei siti archeologici che si sono anche verificate a causa del terremoto e a causa del sisma e anche a causa della neve. In particolare abbiamo avuto la chiusura del museo archeologico, quindi il primo discorso è quello della sistemazione di un nuovo museo archeologico presso la Pinacoteca. Quindi c'è una programmazione che a breve sicuramente possiamo esplicitare alla città, di una programmazione a 360 gradi di quelli che possono essere sia gli eventi e sia la nuova sistemazione all'interno della Pinacoteca. In merito all'Assessorato della Cultura, in collaborazione con il Polo Museale della città di Teramo, ha diffuso un calendario di eventi per il mese di settembre-ottobre. Si partirà il 10, il 17 e il 24 settembre con le Domeniche d'Arte e di Archeologia con visite guidate in città. Dal 1 al 20 ottobre all'Arca si terrà una mostra antologica di Luigi Zampa. Dal 21 al 30 ottobre sempre all'Arca la mostra di Glauco Barlecchini e ancora incontri d'autore il 7, il 9, il 22 e il 29 settembre alla Sala Epogea, nell'ambito della mostra a Teramo Sguardi d'Autore, Tempi e luci sulla città con i fotografi Anselmi, Di Antonio, Di Vitini, Marcocci. Ogni sera un fotografo incontrerà il pubblico. Il 21 settembre si terrà poi ad occhi aperti, sempre alla Sala Epogea, un incontro per riflettere su come la fotografia ha guardato e continuerà a guardare la città di Teramo, il suo territorio. E ancora il 22 e il 23 settembre la 17esima edizione del Festival Internazionale del Cinema Naturalistico Ambientale, che si svolgerà a Piazza Martiri e nella Sala Epogea. Il Festival si svilupperà in due momenti, il concorso e la rassegna. E dal 28, 29 e 30 settembre torna la terza edizione di Follemente Festival, con un incontro alla Sala Epogea, Sport e Follia, con il giornalista e scrittore Giampiero Mughini, il 28 settembre, dalle ore 18. Al sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie, per lo svolgimento di due eventi di danza e teatro nei giorni 28 e 29 settembre, dalle ore 20 alle ore 23. All'Arca, per un seminario condotto dalla Valentina Muzzi il giorno 21 settembre, una mostra con opere realizzate dagli alunni del liceo artistico Melchiorre Delfico di Teramo. Sempre all'Arca, per la mostra con i ragazzi del liceo artistico Delfico di Teramo. E dal 27 settembre al 29 ottobre, alla Pinocoteca Civica, una mostra dell'artista Giggino Falconi.